I carabinieri di Montesilvano indagano per identificare gli ignoti piromani che la scorsa notte hanno incendiato nove automobili in via Chiappinello. Erano da poco passate le 2.30 quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenuti proprio per domare l'incendio di nove autovetture in via Chiappinello a Montesilvano. I carabinieri indagano proprio per risalire all'autore o agli autori del gesto per capire le cause che hanno spinto i piromani a incendiare le nove auto.